Un solo grido, un solo allarme, non vi azzardate, eh? Ma non ci provate, perché noi siamo stati buoni e bravi, ma così non ci teniamo più, eh? Perché in un momento come questo, in cui l'economia è in crisi, non si trova lavoro, aumentano le accisi, scoppiano le guerre, voi cosa fate? Provate a toglierci il porno! Per guardare il porno serve lo speed, cambiano gli accessi, oh! Cioè, da fine anno sarà più difficile andare sui siti porno, perché bisogna registrarsi con lo speed. Ma io dico, ma cosa vorrete da noi, eh? Cosa va, ci avete tolto i rave? Tolto il pezzotto per guardare il calcio, ci tocca pagare, se prendi sette incondotte ti bocciano, se fai sciopero ti arrestano. Ora ci levate il porno! E noi ci droghiamo! Eh no, non si può neppure quello! Ma no, ma con quella light non fanno l'incha! Neppure, è vietata! E basta insistere che ci tolgono anche la camomilla e i fonzis, per favore! No, i fonzis no! Zitto, zitto! Il governo non riesce a mettere un tetto alle spese? Ma mette un tetto alle seghe! Ah, anche perché nessuno pare aver pensato che l'autenticazione con il coso, di come si chiama, con lo speed? No, no, speed! Ma lo speed non è una roba veloce, capito? Al contrario dello speed, cioè lo speed ha dei tempi velocissimi, no? Non so, Flori, magari non ti ricordi, tu sei lì sul divano, ti viene l'ispirazione, faccio un sito con le donnine e via, come dire, è tutto un attimo! Sì, invece dal mese prossimo, quando ti viene l'ispirazione, tu dovrai andare sul sito che però, pum, ti chiede lo speed, quindi metti il nome utente! Sì, perché spesso è anche il codice fiscale, quindi è anche complicato! Poi la password, che magari lì per lì con tutto il sangue confluito, come dire, da altre parti, non te lo ricordi! Il più ricordiamo che stai usando la mano sinistra, perché la destra, Flori, scomemito, tiene il ritmo, no? Poi, aspetta, poi messa la password, è mica finita lì, perché ti deve mandare il codice, quindi apri l'app per ricevere il codice e non fare brutte cose! Tanto lì sotto il romanticismo evapora, capito? Svanisce! Ti arrivano i numeretti, mi metti i numeretti, e se i numeretti sono giusti, a quel punto sentirai la voce del computer... Che si sapele lei che si fa le pippe! Eh, cazzo no, chiudi tutto, non sono io! Comunque, questa cosa la faranno, dicono per tutelare i minori... Ma di i 10, eh? Sì, sì, lo dicono che lo fanno per tutelare i minori e non farli andare sui siti porno! Sì, cioè al governo ci sono dei cinquantenni, se va bene, che pensano di riuscire a impedire a dei quattordicenni di farsi le pippe sugli porn! Ciaone raga, andate tranquilli, figuratevi che si trovano il modo, no! Babassi!